ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al cotton candy sepia sepia con una pissola no seppia in italiano sepia perché perché il quadrante è nero cotton candy è quella serie di diver 65 da 38 mm con i quadranti più disparati colorati variopinti no anche diciamo leggeri no infatti cotton candy come nome ci ricorda qualcosa di leggero leggerezza e con questa versione sepia cioè il quadrante nero viene introdotto finalmente un modello sobrio un modello sobrio che rientra completamente nei miei gusti in passato volevo quasi quasi recensire uno di quei cotton candy colorati meno male che non l'ho fatto perché almeno colgo l'occasione per recensire questo definitivamente che è quello che rientra più nei miei gusti no cassa in bronzo quadrante nero perfetto per me 38 mm non perfetto per me preferisco 40 infatti c'ho 40 al polso l'orologio mi è stato messo a disposizione dall'amico giacomo che è titolare della gioielleria pasquale domenici che parte un ufficiale del canale che è concessionaria del marchio e che offre un trattamento di favore a voi che state guardando quindi telefonate vi fanno il prezzaccio diciamo diciamo così come detto l'orologio del giorno è mio oris diver 65 acciaio bronzo l'ho proprio indossato per omaggiare questo cotton candy è questo qua 40 mm calibro sellite sv 200 quadrante blu scuro a differenza del seppia ed è un orologio che nei suoi 40 mm per me è l'ideale no per voi sicuramente sarà meglio 38 mm che va tanto di moda poi dipende anche dal polso no però per me 40 va benissimo e quadrante blu scuro scuro che è quasi nero quello di oggi invece è seppia proprio niente da giriamo la camera diamo un'occhiata a questo cotton candy e poi ci ritroviamo qui per le considerazioni personali apriamo le danze enunciando i risultati ottenuti dalle misurazioni diametro cassa 38 mm spessore 12.8 ingombro trasversale al polso 46 mm e in terasse ansa da 19 misure che chiaramente ci restituiscono un orologio compatto ed equilibrato sul polso continuo a preferire la versione da 40 mm la trovo più adatta a me ma sono convinto che molti di voi apprezzeranno maggiormente l'orologio di oggi a livello di proporzioni voglio far notare quanto la misura ansa da 19 mm sia indovinata rispetto alla cassa da 38 a dimostrazione che un millimetro di differenza è sufficiente a modificare la sensazione visiva generale consentendo di mantenere lo stesso bilanciamento di proporzioni che troviamo sulla cassa da 40 con bracciale da 20 ma è lo spessore che sempre mi sorprende voglio dire 12.8 mm non è neppure quel gran record di sottigliezza ma il daver 65 ha la capacità di sembrare molto molto sottile il lato caro si presenta alquanto snello pare quasi impossibile che il calibro riesca a stare all'interno e la sporgenza del fondello è nella norma niente di particolarmente eclatante e allora dove è finito lo spessore nel vetro zaffero naturalmente che è piuttosto sporgente curvo e bombato naturalmente non va a pesare sulla vista laterale lasciandoci così un orologio snello e piatto come pochi per quanto riguarda invece il design globale della cassa ci troviamo di fronte ad un orologio dalle forme come da consuetudine uno stile intramontabile che vede ansa e ben presenti e proporzionate né lunghe né corte e profilo ad alla di gabbiano addolcita senza biselli di transizione in un orologio completamente in bronzo a poco servono quei preziosismi che spesso apprezziamo negli altri orologi anche se a dire il vero il dorso delle ansie appare spazzolato longitudinalmente lavorazione probabilmente superflua in quanto la patina che si verrà a creare prenderà il sopravvento sia su questa spazzolatura che sulle parti lucide in generale è per questo che non ritengo necessarie finiture sopra fine perché un eventuale sforzo in questo senso sarà reso poi vano dal color mattone patinato che prenderà l'orologio ma non è tutto realizzato in bronzo ovviamente il fondello è in acciaio essendo costantemente a contatto con il polso è meglio non utilizzare il bronzo che potrebbe interagire con il ph della pelle e lasciare segni indesiderati ma c'è un altro piccolo particolare non visibile ossia una boccola filettata inserita all'interno della corona di carica ovviamente il suo scopo è quello di consentire il corretto accoppiamento tra la filettatura maschio del tubo e quella femmina della corona se fosse stata in bronzo la differente durezza dei due metalli avrebbe potuto compromettere a lungo andare la funzionalità del serraggio si tratta infatti di un orologio ermeticamente sigillato a vite anche nel lato fondello ciò consente una impermeabilità dichiarata di 10 atmosfere un parametro non certo da diver duro e puro ma sufficiente per la maggior parte delle situazioni acquatiche e lo dico per esperienza personale quasi inutile dire che sotto il fondello c'è poi l'usuale calibro di fornitura che motorizza molti degli oris a catalogo nonostante la casa sia ormai conosciuta per i suoi calibri in house accade che in alcuni modelli preferisca puntare sui sellita sv200 come in questo caso per offrire un prezzo di destino più competitivo rispetto alle proprie realizzazioni ma torniamo al lato a e diamo lo sguardo all'inserto ghiera uno dei tratti caratteristici di questa serie essendo in bronzo non ha la minima intenzione di essere funzionale alle immersioni puntando molto di più al lato estetico che a quello pratico la leggibilità delle cifre quasi nulla ma l'effetto tridimensionale dato dai numeri in rilievo e dagli indici scavati è piuttosto affascinante e sarà ancora più accentuato quando il tempo avrà fatto il suo corso basta aspettare nel frattempo possiamo dare un'occhiata al piacevole effetto distorsivo che crea il bordo vetro un glass box molto curvo lateralmente per poi appiattirsi completamente diventare parallelo al quadrante quest'ultimo è il classico dial che siamo abituati a vedere sui 65 fondo nero seppia semi lucido sul quale sono applicati gli elementi tutti in stile gilt indici a bicchierino a corollario applicati in rilievo e interrotti solamente dalla finestra data ad ore 6 sfere a matita e secondi continui a lollipop un insieme di accenti cromaticamente ben amalgamati e sicuramente ottimamente leggibili questo è da sempre un punto forte dei diver 65 l'ottima leggibilità voglio poi sottolineare il disco data a fondo nero che ben si mimetizza col quadrante lascia intendere quanto si attenta alla cura dei dettagli inutile dire che gran parte dell'eccellente leggibilità di urna è la presenza del super luminova bianco il quale in assenza di luce diventa poi protagonista andando ad evidenziare tutti quei punti necessari alla corretta comprensione dei tempi anche il dot sulla ghiera restituisce luminescenza andando così a compensare anche se parzialmente quella inefficienza descritta in precedenza non resta che di squisire riguardo del cinturino innanzitutto occorre dire che è possibile avere l'orologio anche con il bracciale full bronze costa circa 300 euro in più e per i più adaci può essere un'ottima alternativa in questo caso abbiamo un più modesto tropic in caociu molto morbido e che ben si addice allo spirito da skin diver compatto categoria nella quale potremmo inserire l'orologio attenzione al passo dei 19 mm misura dispari che non facilita la ricerca di alternative da segnalare poi altri due punti lo sgancio rapido delle spring bars molto utile e pratico è un punto negativo il passante più largo della fibbia e tende ad uscire dal cinturino occorre fare attenzione a non perderlo possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali il passante che se ne va così per i campi da solo è un po insolito e non mi è mai successo però vi assicuro che più di una volta quando maneggiavo l'orologio mi è uscito dal cinturino quindi una cosa un pochino strana tanto più che ho pensato ma forse sarebbe il caso se fosse mio di metterci uno uno spago uno spago un'impuntura no per bloccarlo lì per tenerlo fermo ad uno dei buchi che ha il cinturino oppure farcelo anche ex novo con un ago però la cosa è strana vabbè comunque attenzione per stata attenzione per contro mi è venuta voglia di comprarmi un tropic per questo orologio qua anche se il suo bello è proprio l'acciaio e bronzo il bracciale in acciaio e bronzo che non tanti orologi quasi nessuno credo ha però con il tropico visto che sta molto bene quello da 38 presumo che sia bene anche questo qua d'altronde la differenza sono due millimetri di cassa e un millimetro di interasseanza no questo qua è 20 quello 19 il tropic dovrebbe starci bene mi ha fatto venire questa voglietta qua del tropic sul diver 65 detto questo poi altri punti negativi eclatanti io non ne ho trovati ci possiamo attaccare al solito calibro di fornitura piuttosto che al calibro in house che loro ce l'hanno però poi il prezzo sarebbe raddoppiato quasi no il diver 65 da 40 millimetri con calibro in house c'è costa di più costa molto di più quindi accontentiamoci del calibro di fornitura che è un sellite sv200 come questo d'altronde poi veramente punti negativi non ce n'è un bel orologio la qualità di costruzione c'è c'è tutta le finiture ci sono avete visto c'è anche la la satinatura sul sul dorso della nasa che non serve a niente perché nel momento in cui diventerà di quel bel marrone scuro caldo no che virerà come ha virato questo è le 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 finiture delle finiture non ce ne frega più niente diventa un orologio da battaglia quasi un orologio vissuto come lo è questo però senza diventare verde perché le persone a volte vedono gli orologi in bronzo virati nelle foto su internet no ma quelle sono virati apposta le fanno apposta a farlo diventare verde con quella patina con quella corrosione no è evoluta perché io in tre quattro anni cinque non lo so non mi ricordo nemmeno quanto tempo è che ho questo ha preso il suo colore si è abbronzato diciamo senza però sembrare marcio no è un orologio che ha questo quel che di vissuto una patina tuta personale che ogni orologio diciamo che fa la patina a maniera in modo suo no non è che sono tutti uguali però non sembra un orologio rovinato come molti hanno paura no quindi il bronzo ha senso meno senso secondo me secondo me parere personale avere il bracciale anche in bronzo il full bronzo perché lì diventa proprio impegnativo a livello visivo no da indossare tutto bronzo c'è a chi a chi sicuramente piacerà chi sicuramente magari anche in estate no tutto bronzo l'orologio virato al suo perché fa il suo bello ma io ho paura che sia troppo un po troppo impegnativo a livello visivo preferisco questo qua con il centurino e tropic che lo alleggerisce un po poi volendo si può anche cambiare anche se da 19 ecco un altro punto di che da 19 interasse ansa quindi se uno pensa vuole mettere un tropic verde scuro per fare pandano con il bronzo che ci sta bene verde bronzo ecco da 19 trovate lo voglio troppo che da 19 si troveranno sì no boh non lo so quindi c'è anche questo punticino debole per il resto d'orologio promosso al netto di questi piccoli punti deboli diver 65 che mi è sempre piaciuto e che mi piace anche questa versione da 38 non per me ma per voi sicuramente sì boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video abbiate apprezzato il mio sforzo per illustrarvelo perché altro non faccio e vi ricordo quindi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love